prima però come sempre i problemi della vita quotidiana del paese il primo lo sapete è il lavoro che non c'è noi siamo andati vicino a Roma a Civita Castellana eccellenza un tempo della produzione di ceramiche e di stoviglie poi dal 2003 il tracollo 1400 persone, la maggior parte peraltro donne sono rimaste a casa e oggi siamo andati a vedere com'è la situazione con Marzia Maglio vediamo io prima facevo questo piatto a fine giornata sapevo che potevo portare a casa una giornata e con questo piatto dentro forse ci potevo mettere qualcosa da mangiare adesso mi trovo questo piatto che è bellissimo che mi ricorda il fatto che lavoravo però poi il piatto bisogna metterci da mangiare dentro senza da mangiare il piatto non vale nulla perché a mio figlio non è che gli posso far mangiare il piatto di ceramica Barbara è una delle ultime lavoratrici del settore ceramico del Viterbese ormai praticamente cancellato dalla crisi inghiottito dalla concorrenza asiatica e gli stabilimenti dove per anni hanno lavorato diverse centinaia di donne oggi li troviamo così nel totale abbandono io 30 anni di questa azienda adesso mi ritrovo con 30 anni di contributi e non posso andare in pensione tra sei mesi mi finisce la mobilità quindi io già so che tra sei mesi la cosa certa è che non ho più uno stipendio poi dopo è il marito che comunque non ha un lavoro sicuro quindi d'inverno quando non lavora non c'è niente che faccio? e come per le altre donne uno stipendio che non c'è più significa rinunciare a un pezzo di vita io ho dovuto lasciare la casa noi vivevamo da soli io mio marito e i miei figli però non ce la facevo più a pagare 600 euro d'affitto quindi sono dovevano abitare con mio padre e lì è stato un altro colpo forte invece di creare siamo tornati indietro siamo andati in povertà e quando mancano i soldi in casa va via un po' tutto la serenità, l'amore qui bisogna vivere con oggi compriamo il pane e il latte domani non lo sappiamo ti si rompe la macchina e succede a me metti in crisi pago una bolletta in ritardo ma quella bolletta poi la devo pagare quindi mi ritrovo magari che il mese dopo c'erano due dei bollette perché io non posso andare a rubare a me non mi hanno insegnato a andare a rubare a me mi hanno insegnato lavorare devi tirare avanti perché comunque i sacrifici vanno sempre fatti però con dignità qui ti va via pure la dignità